Ecco da me l'ultimo, ecco da me l'ultimo, ecco da me l'ultimo, che cos'è uno scudo? Ok, easy, 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 oh easy, ma che cazzo era? Hai sentito poi, oh io sono entrato, io sono entrato, comunque c'era il tipo, stava un cane che stava urlando e quello ha detto Shut up, fuck up, e c'ero io col microfono, easy, easy, ma faccio la clip e te la mando.